Ciao ragazzi, sono Salvatore De Carbonari Bikers. Per domenica, in occasione della seconda edizione del Napoli Bike Festival, abbiamo preparato un giro per la foresta di Cuma, per i Carbonari alla non edizione, ma con delle varianti veramente uniche. Possono partecipare anche i bambini, purché col casco, anche gli adulti col casco. Massimo divertimento, proverete l'ebbrezza dello sterrato su un giro facilissimo. Vi aspettiamo numerosi. Ciao!